Divampano le polemiche in merito alle infiltrazioni di criminali nei flussi di migranti in arrivo dall'Algeria. Dopo Domus Novas, anche nel comune di Giba, arriva la richiesta per istituire un ordine del giorno a favore della zona franca. Ricorreva ieri l'ottantesimo anniversario della Fondazione di Carbonia. Il Carbonia Calcio supera la capolista Arbus per 1-0 e consolida la propria classifica. Buon lunedì 6 novembre a tutti i telespettatori, ben ritrovati per questa nuova edizione del TG40. Apriamo la prima parte con la cronaca, nello specifico parliamo delle polemiche in merito agli ultimi sbarchi di migranti e all'arresto tra essi di un cittadino algerino destinatario di un mandato di cattura internazionale. Il parlamentare di Unidos Mauro Pili ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno. Vediamo. Il deputato di Unidos Mauro Pili ha presentato un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell'Interno Miniti in merito all'allarme generato dall'ultimo sbarco nelle coste del Sulcis e all'identificazione di un migrante di origine algerina ricercato in ambito internazionale in quanto destinatario di una condanna a 15 anni cominattagli da un tribunale francese per reatti che vanno dalla rapina al tentato omicidio. Una situazione che il parlamentare ha definito inaccettabile in quanto dimostra che nella ruota migratoria dall'Algeria alla Sardegna si imbarcano anche criminali e potenzialmente potrebbero infiltrarsi anche terroristi con tutto quello che ne potrebbe conseguire in termini di sicurezza nazionale e per i cittadini. E nonostante questa evidenza, ha spiegato Pili, questo traffico di clandestini che non fuggono da guerre o dalla povertà continua in perterrito senza che nessuno intervenga per arginarlo. Nel frattempo il migrante algerino destinatario di condanna è stato arrestato e tradotto nel carcere di Uta dove verrà interrogato dalla magistratura. Prende fuoco per la seconda volta in due settimane il compattatore sito di fronte al superpan di via Santa Caterina a Carbonia. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Per la seconda volta in poco meno di due settimane i vigili del fuoco sono dovuti intervenire di fronte al superpan di via Santa Caterina a Carbonia per spegnere un incendio appiccato a un grosso compattatore dove vengono convogliate le scatole di cartone dell'attività commerciale. Il gesto su cui stanno indagando gli inquirenti potrebbe essere riconducibile unicamente all'azione di uno più tepisti o a qualche bravata. Ma certo, visti i pregressi in città per quanto riguarda gli incendi di auto e non solo serpeggia la preoccupazione tra i cittadini del rione di via Sanzio e di via Santa Caterina. Cambiamo argomento. Dopo Domus Novas, anche nel Comune di Giba è stato avviato il dibattito per l'istituzione di un ordine del giorno a favore della zona franca. Dopo la scelta del Consiglio Comunale di Domus Novas di approvare un atto di indirizzo a favore della zona franca, anche nel Comune di Giba divampa la discussione su questo tema. In particolare grazie a una proposta dei consiglieri di minoranza Granela, Camboni, Zanda e l'ex sindaco Learco Fois, che hanno chiesto di poter istituire, già dalla prossima adunanza comunale, un ordine del giorno a favore di questo strumento, già previsto dal decreto legislativo numero 75 del 1998, ma che finora è rimasto inapplicato. La battaglia per la zona franca, così come è accaduto oltre tre anni fa alle soglie delle scorse elezioni regionali, ciclicamente si ripresenta, in quanto considerata da molti cittadini ed esponenti politici, come l'unico strumento di compensazione in grado di lenire le diseconomie generate dal regime di insularità per la Sardegna. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro Tg, parliamo adesso dell'ottantesimo anniversario della Fondazione di Carbonia, che ricorreva ieri, da non scambiare con l'inaugurazione ufficiale. Vediamo. Ieri, domenica 5 novembre, ricorrevano gli 80 anni dalla fondazione vera e propria di Carpoglia. Da non scambiare con l'inaugurazione avvenuta invece il 18 dicembre 1938 e lo storico discorso dalla torre Litoria della loro duce Benito Mussolini. La fondazione avvenne infatti tramite la promulgazione di regio decreto del re Vittorio Emanuele III, che diede il via il 5 novembre 1937, a quel sogno autarchico energetico di cui la città di Carbonia sarebbe dovuta diventare la massima interpreta e protagonista in un contesto storico nel quale l'Italia era sottoposta a sanzioni internazionali e inesolabilmente si addombravano le nubi della Seconda Guerra Mondiale. Un sogno che dopo pochi anni si infranse con la dura realtà della crisi e di produzioni carbonifere non più competitive e tutte le vicissitudini che ancora oggi purtroppo fanno discutere sul futuro della città ancora decisamente instabile dal punto di vista economico, occupazionale e quindi sociale. Si potrebbe dire dunque che Carbonia ancora oggi è una città incompleta da terminare ma con una grande forza innata dei suoi abitanti che nei decenni hanno saputo lottare più volte per farla risorgere e per proiettarla nel futuro. È stato pubblicato a Carbonia il bando per l'assegnazione degli impianti sportivi senza rilevanza economica. L'amministrazione comunale di Carbonia ha pubblicato tramite gli uffici dell'assessorato allo sport la modulistica per presentare le manifestazioni di interesse in merito alla gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica in città. Lo scopo di tale iniziativa ha spiegato la sindaca Paola Massida è quello di rendere fruibile a beneficio delle società sportive e dei loro atleti il ricco patrimonio di infrastrutture utili a scopo sportivo. Sono infatti 22 gli impianti disponibili nel territorio comunale per questa finalità e che potranno essere affidati con una convenzione quadrienale e successivamente rinnovabile annualmente con atto motivato fino a due anni. I destinatari di tale progetto sono le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva senza fini di lucro e gli operatori economici che hanno gestito negli ultimi tre anni impianti sportivi analoghi a quelli oggetto della gara. Per apprendere le modalità di partecipazione o per ottenere maggiori informazioni ci si potrà collegare al sito istituzionale del Comune. C'è la volontà di realizzare un libro sulla memoria storica di Sedda Smodizis dietro il convegno organizzato nei giorni scorsi dalla SPI CGL nel Comune di Gonnesa. Guardiamo il servizio che ha realizzato per noi Manolo Muretto. La SPI CGL ha organizzato in collaborazione con l'Associazione Radice Ali un convegno per preservare la memoria storica del sito minerario di Sedda Smodizis nel Comune di Gonnesa. Scopo di questa iniziativa è l'allestimento di un volume con foto, testimonianze scritte e poesie della quotidianità della comunità che nella prima parte del secolo scorso abitava l'importante sito minerario. Dalle lotte operai a lavoro alla vita di tutti i giorni verranno ripresi e preservati tutti gli aspetti allo scopo di tramandarli alle generazioni a venire e raccontare un periodo storico difficile ma di grande speranza e dignità per i lavoratori del territorio. Bentornati in studio per la terza parte del nostro Tg. Apriamo parlando di scienza. A mercoledì prossimo si terrà al Planetario di Cagliari la presentazione del Festival Sulcis Scienza. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Si terrà mercoledì 8 novembre alle ore 10.30 presso il Planetario dell'Unione Sarda la presentazione del Festival Scientifico Sulcis Scienza. Alla conferenza presenzieranno il direttore scientifico del Festival Nino De Iosso e il direttore del Planetario Manuel Fluris. L'importante evento sarà l'occasione per promuovere e far conoscere meglio i cittadini che parteciperanno la scienza sotto tutti i suoi più svariati e articolati aspetti e a tal proposito a partire dal 13 novembre verranno presentate alla città di Carbonia una serie di manifestazioni che varieranno da conferenze, laboratori, incontri, spettacoli, animazioni e concerti. Saranno sette giorni di appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, la matematica, l'ambiente, le neuroscienze, l'immunologia, l'architettura, l'arte e la musica orientate al coinvolgimento di grandi piccini, scuole, famiglie, ricercatori e semplici cittadini. E siamo allo sport. Il giovane Alessandro Pugeddu si è laureato campione sardo di enduro per la stagione 2017. Alessandro Pugeddu, pilota di moto proveniente da Fluminimaggiore, si è laureato campione sardo di enduro per la stagione 2017 grazie al terzo posto raggiunto nell'ultima prova tenutasi a Carbonia. L'importante successo è stato conseguito grazie al punteggio ottenuto nelle ultime sette gare del circuito regionale e in anticipo rispetto all'ultima gara che ancora si deve tenere. Pugeddu aveva già vinto in passato, nelle finali di classe, quattro titoli regionali in dieci anni di competizioni, ma mai un titolo assoluto come stavolta. Un risultato che ha premiato la sua grande passione per uno sport che fin da giovanissimo lo ha convolto totalmente e per il quale oggi finalmente ha coronato i suoi sogni di vittoria. Il Carbonia Calcio ha vinto la sfida con l'Arbus nella settima giornata del campionato di promozione regionale. Vediamo. È stata una vittoria meritata, quella conseguita ieri dal Carbonia Calcio nel proprio campo nella sfida contro la capolista Arbus, valevole per la settima giornata del campionato di promozione regionale. La compagine guidata dal mister Andrea Marongiu si è imposta sulla squadra proveniente dal medio campidano grazie a uno straordinario gol di Alessio Lintas sotto l'ingrocio dei pali. La partita non è mai stata in bilico, nemmeno per un momento, in quanto l'undici minerario ha sempre mantenuto il campo colpendo anche una traversa e fallendo in diverse occasioni il raddoppio. Una conferma quindi sulla solidità del Carbonia che ora dovrà affrontare la trasferta in Oliastra per la sfida contro il Barisardo. Inoltre, a margine della partita, i giocatori hanno esposto dei cartelli con su scritto «Noi andiamo oltre», accogliendo l'iniziativa lanciata nei giorni scorsi nei social da un giovane tifoso di nome Sean Serra per sensibilizzare i cittadini contro ogni forma di discriminazione. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale è concluso, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che adesso andrà a seguire Noas in Curso, il nostro Tg in lingua sarda condotto in studio da Guido Cadoni. Arrivederci alle prossime edizioni.